Presa d'atto con voto unanime della seconda commissione presieduta da Eros Brega della relazione per l'anno 2014 circa l'attuazione della legge 13 del 2013, il testo unico del turismo e i risultati conseguiti. Il documento viene redatto annualmente dalla giunta regionale in adempimento alla clausola valutativa. L'atto, che a breve approderà in aula e di cui relatore sarà lo stesso presidente della commissione, è stato illustrato ai commissari dalla responsabile della sezione controllo e valutazione, Maria Rita Francesconi, sono stati evidenziati, tra l'altro, segnali di ripresa circa ai flussi turistici registrati nel 2014, con un dato significativo che riguarda l'incremento nel 2013 dei flussi dalla Cina. Tra le iniziative promozionali un intervento strategico viene considerato il progetto Sensational Umbria, che ha visto l'acquisizione di 145 scatti di Steve McCurry, che nel 2014 ha portato alla realizzazione della grande mostra a Perugia, poi prorogata fino all'11 gennaio 2015 anche in altri territori regionali. I visitatori totali sono stati 42.304, di cui 36.816 paganti. I flussi turistici. Nel 2013 sono stati registrati 2.190.143 arrivi e 5.763.799 presenze. Rispetto al 2012 si registra un più 0,12% negli arrivi e un meno 2,17% nelle presenze. I flussi turistici registrati nel 2014 evidenziano segnali di ripresa rispetto all'anno precedente. La variazione complessiva è delle più 5,96% negli arrivi e più 1,65% nelle presenze. Le principali correnti italiane, come nel 2013, rimangono Lazio, Lombardia, Campania. Per quanto attiene a quelle straniere, si confermano i Paesi Bassi, la Germania, gli Stati Uniti e il Belgio. I turisti stranieri nel 2014, nel totale generale, aumentano negli arrivi e sono stabili nelle presenze, più 7,43% negli arrivi e più 0,01% nelle presenze. Non omogenea la ripartizione dei flussi turistici nei 12 comprensori in cui è stata suddivisa la regione. I tre comprensori della fascia centrale, Trasimeno, Perugino e Asisano, raccolgono sostanzialmente oltre la metà dei flussi turistici regionali. Per quanto attiene le iniziative promozionali, nelle 2014 l'azione della regione si è indirizzata verso il rafforzamento del brand Umbria. In questa logica, oltre al richiamato progetto Sensational Umbria, da considerare quello legato ad Umbria App, che ha consentito anche la creazione di un sistema utile a proporre materiali innovativi come app ed e-book sui principali prodotti turistici regionali. La regione ha anche puntato al consolidamento e al rafforzamento di alcuni principali mercati esteri come Germania e Benelux.